Buonasera amiche e amici ritrovati sulla fantastica avventura dei megacicli stereofonici, il Megaherz 93, quello di Radio Roma Capitale. Un saluto a chi ci sta seguendo attraverso il nostro live stream, ovvero www.radioromacapitale.it Una puntata speciale, non fosse altro perché ci sono degli aspetti che ascendono da un punto di vista personale ed affettivo. Perché parliamo di uno dei comuni, dei castelli romani, a me più cari, Velletri, poi entreremo nel merito della vicenda. Un titolo assolutamente generale che si proietta l'attenzione dei nostri ascoltatori e poi contestualizzeremo ovviamente gli ospiti e la vicenda che ci raccontano gli stessi. La domanda di linea è questa, c'è democrazia interna nei partiti politici? Buonasera al signor Saverio De Moro. Buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera al conduttore Gramiccioli. Grazie per essere qui, adesso sì, passi pure. Allora, al Saverio De Moro che viene da Colleferro, se non sai. Va al montone, va al montone, va al montone. Buonasera a Vincenzo Bagaglini. Buonasera, buonasera Davide. Un ringraziamento particolare alla radio che ci ospita e un buonasera a tutti gli ascoltatori. Vincenzo Bagaglini, consigliere comunale, Partito Democratico di Velletri. Sì, ora confluido nel gruppo misto. Ora nel gruppo misto e poi ci spiegheranno sia Vincenzo Bagaglini e buonasera a Fabio Taddei. Buonasera Taddei. Buonasera Davide, grazie alla radio per averci ospitato e buonasera anche a tutti gli ascoltatori. Il dottor Fabio Taddei, anche lui, è consigliere, eletti nel Partito Democratico. Eletti nel Partito Democratico. Confluido anche lei? Sì, anche nel gruppo misto. Nel gruppo misto. Allora, iniziamo da Bagaglini, poi andiamo da Taddei. Eletto nel 2008? 2008 nel filo del Partito Democratico con la vittoria del centro-sinistra nel comune di Velletri. Secondo turno. Dal secondo turno perché ci fu il ballottaggio. Il ballottaggio con un candidato di centro-destra e vincemmo noi portando come candidato Fausto Servadio. Servadio, perché poi essendo di Castelgandolfo, ovviamente, si conoscono in realtà i risultati della politica locale. Quanti voti, Bagaglini? 124. 124 di Frezzo. Un buon risultato. Parliamo di un grande comune dove è sempre più difficile col sistema maggioritario, uniluminale. dottor De Moro, scrivere lì. Una volta c'erano i numeretti. Oggi devi andare lì, devi scrivere Bagaglini, devi scrivere Taddei. Quindi, insomma, un buon risultato in un comune come Velletri. Esperienza nel Partito Democratico che si frattura, finisce quando? Io farei un passo indietro. Prego. L'esperienza mia inizia nel Partito Democratico con la formazione del Partito Democratico. Un grande progetto, una grande visione di rinnovamento alternativo in un centro-sinistra che si rinnova. Iniziamo questa bella avventura che fino a un certo punto ci ha visti protagonisti in una discussione. Anche bisogna sottolineare che il nostro comune ha avuto delle difficoltà piuttosto serie a livello di bilancio e si è dovuto commissariare la precedente situazione finanziaria. Quindi è stata una situazione abbastanza difficile. I nostri problemi interni al gruppo, non direi in particolare nel partito, ma nel gruppo consigliare, cominciano a fine 2010, inizio 2011, su alcune scelte di indirizzo di carattere politico. di scelte, di crescita e di sviluppo della città. Taddei, lei ha una militanza di Velletri. Ha qualche mese in più rispetto a Bagaglini. È una virtù in alcune culture. È un tratto caratterizzante della vita. Intendo l'anzianità. Scherzo, mi permetto, ovviamente, con gli amici di Velletri. Lei è al secondo mandato? Sì, sono stato eletto nel 2004 tra le fila dei DS. Poi, dopo tre anni soltanto, il sindaco di allora, Cesaroni, si dimise. Abbiamo avuto un anno di commissariamento. Poi nel 2008 ci sono state le nuove elezioni, dove io sono confluito poi nel PD. Sono stato eletto ad aprile del 2008 con queste elezioni, dove sono risultato tra i più votati. Venivo già da una precedente esperienza, insomma, dove mi ero impegnato. Quanti voti, Taddei, lei? Oltre 300. Oltre 300. Sono attualmente il terzo dell'intero consiglio, in ordine di voti. Allora, ovviamente i motivi che hanno avvicinato Bagaglini a questa scelta, e immagino anche per una conoscenza più diretta, scolastica, universitaria, liceale della politica, e poi si arriva ovviamente a fare una scelta di partito per impegnarsi nel proprio paese e per il bene comune. I principi che ispirano il Partito Democratico, almeno dal punto di vista statutario, anche il PD alle tutti, senza fare premesse, usare titoli di convenzione, sappiamo che negli statuti si trova il bene del mondo e poi la pratica è sempre molto più perigliosa nella sua attuabilità. Lei se ne esce con Bagaglini dal Partito Democratico o venite cacciati via? Aspetta, il microfono però, Taddei, le chiedo il microfono. No, prima di noi intanto è uscito un altro consigliere ancora, prima di noi è uscito un altro consigliere, Franco De Santis, e quindi ha perso un elemento il PD. Poi noi due, ma la nostra storia è un po' diversa, noi non volevamo uscire, non volevamo uscire assolutamente, ma c'è stata una serie di eventi che ci ha portato poi contro la nostra volontà, contro la nostra, e questo voglio che si sappia bene, contro la nostra volontà di uscire. Ma è una storia che ci sono molti, ma molti punti che si dovrebbero conoscere, perché ci sono punti strani, punti dove non abbiamo avuto ancora, non abbiamo avuto soddisfazioni, siamo stati trattati molto male in questa storia. E soprattutto non lo meritavamo per l'impegno che... Allora, questa è una sua, ovviamente, è una sua considerazione. Devo spendere 30 secondi per sia... De Moro ovviamente si è allineato in questa scelta, l'ha fatto con Compostezza, Garbo e con classe. Bagaglini, Vincenzo e Fabio Taddei, la loro storia già vi è stata presentata, hanno chiesto espressamente di venire dopo le elezioni perché non volevano perturbarle dal punto di vista elettorale. Quindi credo che alle parole hanno fatto seguire anche dal punto di vista del rigore e del comportamento fatti assolutamente pratici e per quello che mi riguarda assolutamente incomiabili. Che cos'è il Partito Democratico oggi? Che cosa sono i partiti? Vorrei, prima di riprendere, dopo la pausa pubblicitaria, coinvolgere già da adesso Saverio De Moro perché mi ricorda quei vecchi amici che da sempre fanno politica nei paesi. Una volta quando si faceva un'infrazione o veniva un comportamento ritenuto un'infrazione, un motivo di giudizio, quelli della democrazia cristiana, io vengo da Castiel Gandolfo, deferivano tutti ai provviviri. Chissà che evoluzione dal punto di vista dell'organicramma ha subito la politica in questi termini. Il signor Saverio De Moro, lo ringrazio anche loro, lei in modo e titolo personale perché ha accettato di partecipare a questa puntata anche perché può essere la cartina sulla torna sole per spiegarci meglio quelli che sono i gangli della politica a livello di burocrazia interna e statutaria dei partiti. I partiti, si è detto come analisi e critica più generale, in questi giorni sono una sorta di baronato dove esiste una nomenclatura, una struttura invalicabile, ci sono le regole e queste tenderebbero soprattutto a menomare quella che è la democrazia. Lei è ancora, tra l'altro, membro della Commissione? A quello che mi risulta, sì. Che cos'è lei ancora? Che cos'è lei ancora? Allora, a beneficio di chi ci ascolta. Saverio De Moro è ancora membro a tutti gli effetti perché non abbiamo avuto segnalazioni di natura diversa, è ancora membro della Commissione di Garanzia del Partito Democratico Provinciale di Roma. Così dovrebbe essere, nei fatti. Nei fatti, finché non ci sono segnalazioni che contravengono a questo. No, perché sono state fatte delle riunioni di commissione alla quale sono stati emessi addirittura dei verbali di una certa importanza e il sottoscritto non è stato né informato né tantomeno convocato. Quindi diciamo... La pratica è sempre ben avviata. Trovo spunto da questa trasmissione per lanciare un ulteriore invito a chi di dovere di ufficializzare se sto dentro o sto fuori la Commissione di Garanzia. Partito Democratico, e colgo l'occasione per fargli le più sincere congratulazioni, non possono riportarci a livello proprio di memoria al neoeletto consigliere Daniele Leodori. Esattamente. Segretario provinciale, il più votato, se non sbaglio, dovrebbe essere stato il più votato di tutta la sessione elettorale. Tanti auguri, congratulazioni e soprattutto buon lavoro per la nostra regione. Buon lavoro, certo, anche da parte mia. Cosa sono i partiti? I partiti... Bella domanda. C'è trasparenza, c'è democrazia all'interno del Partito Democratico Municipale. La commissione della quale lei è membro diventa uno straordinario osservatorio in questi termini. Guardi, io per l'esperienza che ho potuto fare direttamente ho potuto toccare con mano, accettare che all'interno dei partiti purtroppo vige sempre la prova forza. La prova forza con i numeri, con l'elettorato e con i ruoli che si svolgono all'interno del partito nelle varie istituzioni. Quindi è come dire che il pesce grosso mangia quello piccolo. E questo sinceramente è una cosa che da subito a me ha dato fastidio. Come ha dato fastidio? A me ha dato fastidio anche ad altri amici facente parte della stessa commissione. Ma non per ultimo nei circoli, nelle sezioni locali, laddove la politica viene vissuta a contatto col territorio, a contatto con i problemi della gente. È là che poi noi sentiamo crescere la richiesta, come dire, la voglia di trasparenza, di partecipazione. E tutto questo viene meno quando poi invece si tratta di mettere in pratica praticamente quelle che sono le sacrosante regole di partito, lo statuto morale addirittura che vige all'interno del partito. Quindi il codice etico che dovrebbe essere veramente l'ABC della gestione del partito, soprattutto del partito democratico, così definito. Se non fosse altro per rispetto del nome. Ma sicuramente. Però, ripeto, andiamo a cozzare fortemente. Questo è un gap che deve essere recuperato e colmato da parte di tutti i partiti. Poi ritorno nella specifica vicenda. La mia presenza in particolar modo vuole essere un punto, un momento di riflessione per chi di dover cercare di riportare dentro certi binari il valore importante che hanno le regole per la convivenza insieme ad altri compagni. Allora, altri compagni, che termine? Per capire da dove stiamo estrapolando e raccontandovi questa storia, Cesaroni, credo che sia solo un caso omo, è un caso d'omonimia, al Cesaroni Gino di Giusto, non erano parenti. Esatto. Lo storico Cesaroni era il grandissimo sindaco di Gensano. Per capire da dove veniamo noi quattro, Valmontone, Castelgandolfo e Felledri, in un'infocata seduta alla cavera, Gino Cesaroni Gensanese chiese del suo piacerrimo avversario politico e disse proprio in dialetto dove sta quello? E gli dissero G, non sta bene. Dice, ma bene che significa? Dice, mi sa già malaccio. Lui interruppe la seduta e andò a casa del suo più grande avversario. Cioè, noi veniamo da quella gente, da quella tradizione e per noi la politica, credo, Per noi quattro, per tutti, era quella. Pensate, poi viene tutto stravolto, si fanno le commissioni, le garanzie, le corrente che falcidiano, perturbano i partiti fino a farli tribolare alla morte. Tant'è che, a un certo punto, Taddei e Bagaglini, che apparentemente sono due bravi ragazzi, i fatti confermerebbero questi. Non vedono chiare alcune cose e iniziano legittimamente a farsi delle domande. Saluto Gianfranco De Biasio, che è stato un attivista della prima ora del Movimento 5 Stelle a Roma, che ieri abbiamo detto, ma dove inizia il momento di frattura? Quando facevo delle domande. Esatto. Che è un caso più personale rispetto alla vicenda generale dei partiti. Bagaglini, quando iniziano i vostri problemi? Ma i nostri problemi iniziano quando cominciamo ad imporci su una linea di governo della città diversa da quella che il sindaco e la sua giunta imponeva a tutto il Consiglio Comunale e di conseguenza al partito. Vedasi vicenda multipiano, vedasi vicenda valorizzazione e alienazione dei beni pubblici e lì cominciano degli screzi diciamo quelli più importanti se così vogliamo e a questo punto a questo punto cercano di trasferire la discussione dal gruppo consigliare nel partito e nel partito noi invece che trovare una porta aperta troviamo una porta chiusa. Quindi ci trasferiscono la questione spostandoci l'asse del ragionamento dal gruppo consigliare al partito e invece nel partito troviamo un segretario che si ostina a chiuderci la porta e a dettare i tempi e i modi delle riunioni e a questo abbiamo ovviamente riscontro dalle mail che ci siamo scambiati che non ci dà possibilità diciamo di dialogo. Questo ovviamente innesca in noi una serie di reazioni che sono diciamo come dire che appartengono al ruolo di consigliere quelle di presentare mozioni e interrogazioni in consiglio comunale e a questo svolgiamo il nostro ruolo. che è un mandato che al di là diciamo della candidatura di partito ma è un mandato che ci danno i cittadini perché veniamo eletti dai cittadini e intraprendiamo questo percorso. Questo ovviamente invece che ricondurre la discussione nella sede politica c'è qualcuno che butta benzina su fuoco ed infiamma ancora di più il ragionamento io in particolare mi trovo sì in questa situazione perché su questo aspetto e posso dirlo con con libertà di pensiero che la persona più aggredita su un comportamento di questo tipo era il mio collega Fabio D'Adei quindi io mi trovo a sostenere un atteggiamento a contrastare un atteggiamento che non è un atteggiamento democratico non è un atteggiamento costruttivo nei confronti di una persona che veniva vessata e questo comportamento mi porta a prendere una posizione e la posizione io ovviamente là esterno a tutti gli organi di partito quali non si sono mai diciamo espressi in merito a questa situazione che non lo facevo per per prendere le difese di un specifico soggetto ma ad evidenziare l'aspetto negativo in sé di una vicenda spiacevole nella salvaguardia del principio democratico e me ne rincresceva molto queste erano le comunicazioni i messaggi che lasciavo passare io purtroppo sono stati inascoltati e poi si è arrivati man mano alla rottura che avremo modo e tempo per spiegarlo nei modi nei contenuti allora le angherie maggiori le subisce anche perché poi c'è un modo di solidarietà che confluisce Bagaglini sulla vicenda Taddei noi ci fermiamo per la pubblicità giusto lo chiede Orlando Filosa perché poi abbiamo un torno di tempo più adeguato per lasciare la parola proprio a Fabio Taddei perché possa parlarci lui del momento in cui nel quale iniziano queste queste angherie a dopo Radio Roma Capitale ritorniamo alla nostra vicenda stiamo parlando di una frattura venuta a creare all'interno del Partito Democratico di Velletri la persona che subisce che sembrerebbe subire più angherie più vessazioni più attacchi è quel signore di fronte a me io ovviamente posso avere una visione più fisica voi radiofonica dello studio Fabio Taddei cosa denuncia lei all'interno del Consiglio Comunale di Velletri rispetto anche ai suoi colleghi di partito perché ricordiamoci che Fabio Taddei e Vincenzo Bagaglini sono consiglieri di maggioranza quindi hanno il sindaco del loro stesso partito che è il dottor Servidei giusto? Servadio? Servadio Servadio allora prego Taddei quando iniziano i suoi problemi? Il problema i problemi diciamo che più piccoli ci sono stati quasi da subito perché io devo dire la verità insomma tutta questa democrazia dentro al partito non c'è stata mai da subito da subito ma poi diciamo che nel corso dei primi anni molte cose abbiamo fatto finta di come dire di non vederle abbiamo tralasciato sperando tempi migliori sperando che le cose così migliorassero ma poi invece sono peggiorate mi ritrovo dunque lo spartiacque del 13 di settembre 2011 dove vengo convocato davanti al direttivo del partito e subisco un vero e proprio processo un'umiliazione davanti all'intero direttivo del mio partito l'accusa più grave era di non avere da parte del segretario Masi chiedo scusa non cerco ovviamente nessuna nessuna proiezione suggestionale per chi ci ascolta però ovviamente per avere un'idea processato tra virgolette davanti processato cioè significa che lei viene portato perché queste cose non le sappiamo noi neanche gli ascoltatori è bene far capire lei dove viene portato dove viene convocato nella sezione del partito a Belletri viene convocato il direttivo del partito il 13 settembre 2011 e quando andiamo io e il collega Bagaglini stiamo sempre insieme e arriviamo lì e in realtà l'ordine del giorno che adesso non ricordo bene qual era ma era in realtà un processo nei miei confronti il segretario Masi seduto sulla schivania al centro della sala imperterrito leggeva una serie di accuse nei miei confronti la più grande le più grandi erano quelle di non aver partecipato alla festa democratica di aver fatto degli articoli e di aver fatto delle interrogazioni aspetti ovviamente io ho sentito in privato il dottor Luca Masi al quale ovviamente rinnoviamo l'invito soprattutto dopo aver ascoltato questa trasmissione a intervenire e ovviamente a confrontarsi sia col signor Tate col consigliere Dadei che col consigliere Bagaglini mi viene da ridere ma è un sorriso amaro quindi è una storia da committer il polibiro l'hanno messa davanti ai compagni l'accusa era di non aver partecipato alla festa lei c'era la festa dell'unità no non sono andato perché visti i rapporti che si stavano deteriorando non avevo voglia di come dire magari dare spunto a qualcuno di litigare per qualche cosa davanti alla gente che non mi sembra una gravissima e quindi non sono andato per andare alla festa dell'unità non sono andato per questo motivo quindi vengo accusato di queste cose insomma articoli io faccio il consigliere comunale quindi mi sembra normale che i consiglieri scrivano gli articoli che poi portavamo a conoscenza cose che sono vere insomma non è che abbiamo scritto chissà che cosa anche le interrogazioni mi sembra che siano di pertinenza dei consiglieri comunali se non sbaglio no? in democrazia si usa così e quindi alla fine non se n'è fatto nulla il segretario disse che comunque secondo lui era dovuta questa cosa ed è finita così ed è finita lì ma aspetta un attimo Bagaglini si no dimentico un passaggio importante il collega da Dei che dopo questa relazione di accuse io mi alzai perché atterrito da tutto questo popò di cose cui da Dei veniva accusato mi alzai e dissi bene ora se dovete processare da Dei per l'elenco delle accuse qui fin qui esposte allora dovete processare anche me perché sono colpevole anch'io di non essere stata alla festa del partito democratico e di non aver fatto altre cose che ha fatto da Dei non tutte ma insomma in parte tranne qualche articolo perché la colpa grave del Taddei che scrive sulla stampa e quindi porta a conoscenza l'opinione pubblica di ciò che ciò che fa la stampa locale la stampa locale certo ma è abbastanza diffuso perché ci si rivolge verso la linea sono lettissimi questi giornali e quindi da lì da lì montando questo questo ragionamento qualcuno si sfilò dal jacuzzi del segretario e quindi si ricondusse tutto nella discussione nella sede politica che poi purtroppo poi è degenerata grazie per questa ulteriore precisazione prego quindi lei messo lì all'esposto alla Berlino è stata umilazione che non credevo proprio di meritare non credo che di meritare una cosa del genere va bene comunque questo traccerà profondamente la posizione di Moro perché c'è l'aspetto umano ci guardavamo in faccia durante questo direttivo e io guardavo come dall'esterno e dico ma questi ce l'hanno con me ma sono io l'imputato qui ma che cosa stanno dicendo comunque è andato così e quindi io devo ringraziare quella Bagaglini perché infatti disse proprio così se è colpevole da dei sono colpevole anch'io processate anche me e quindi finì così ma poi i problemi sono andati avanti perché poi noi chiedevamo informazioni chiarimenti su altre cose che invece poi chiarimenti non sono venuti e si è deteriorato ancora di più ancora di più il rapporto e qua io devo rimarcare che il segretario ha avuto un grande ruolo nel buttare benzina sul fuoco mi deve aiutare e ti chiedo questo tipo di aiuto segretario parliamo di Luca Masi di segretario locale certo certo ricordiamo i nomi al quale Masi vorrei fare delle domande con l'occasione della radio al quale dovrebbe rispondermi noi abbiamo avuto comunque abbiamo fatto tante lettere durante il 2011 varie lettere dove chiedevamo degli incontri ma lui non ci ha mai ricevuto anche insieme al collega De Santis che poi è andato via anche lui dal PD dalla provincia di Sulmona Manuela ti scrive che strano essere giudicato per non aver partecipato questo rappresenta il grado di democrazia che probabilmente in questa sezione del PD di Velletri io parlo di quello di Velletri non sto parlando del PD nazionale quello di Velletri quindi chiediamo degli incontri al segretario non ci riceve anzi ci scrive anche una mail dove dice che non ritiene opportuno incontrarci e cominciano in pratica veniamo osteggiati cioè alla fine non siamo stati neanche più convocati alla riunione di direttivo non avevamo ancora nessun procedimento come dire formale e disciplinare da parte del partito e il segretario non ci ha più convocato da settembre in pratica 2011 non siamo stati più convocati nelle riunioni del gruppo consigliare anche non sta diventando un caso nazionale anche da Pescara siamo anche stati sospesi dal gruppo la situazione poi Bagaglini ovviamente mi sembra di capire ci sembra di capire che paga tutto questo perché fa una scelta Bagaglini è una persona legale è una persona corretta noi non ci siamo mai imposti l'un l'altro nulla tutto ciò che abbiamo fatto insieme è perché l'abbiamo condiviso dagli articoli sui giornali dalle interrogazioni tutto tutto c'è un rapporto di lealtà e di rispetto reciproco assoluto anche se qualcuno ha provato anche così in maniera scorretta a dividerci ma non gli articoli firmati erano i miei erano i miei quelli firmati insieme erano 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 fatti insieme certamente certamente amici amici però è un attimo abbiamo alleggerito un attimo allora le accuse Taddei veniamo al concreto quali sono gli aspetti che ovviamente confliggono questo rapporto tra lei soprattutto e il partito democratico di Velletti di cosa accusa il partito democratico di aver coperto cosa no no intanto non è così sembra io contro il resto del mondo non è così perché all'interno del partito ci sono anche persone con cui si ragiona e si parla magari altri per convenienza fanno delle scelte o torto collo di un certo tipo magari poi ci si ritrova invece a parlare in maniera individuale e poi ti raccontano dicendo sì in realtà vi hai ragione però sai ho dovuto fare così e questa è la cosa che mi dispiace molto la Piera diceva ci sono le chiacchiere da trattoria che sono quelle che farebbero bene alla politica poi ci sono le chiacchiere delle stanze che fanno il male dell'umanità eh certo quanti casi del genere la commissione per la garanzia del partito provinciale il PD esamina l'anno il gioco quante volte vi rinvite tra l'altro le dico subito io ho partecipato un periodo abbastanza breve nel quale apparentemente non c'erano questioni da risolvere ma all'improvviso è esploso un lavoro enorme perché c'era l'arretrato che ci ha lasciato la vecchia commissione e il nuovo quello che arrivava quotidianamente che puntualmente rimaneva fermo sui tavoli dentro i cassetti della commissione quindi ci siamo provati eh ad esaminare eh almeno una decina di case a cui poi andava data una certa priorità e qui voglio inserire una vicenda che vede protagonista protagonista il nostro malgrado il mio la mia città Valmontone Valmontone che cosa è successo eh un'aggiunta capeggiata da un sindaco a a maggioranza del partito democratico governa Valmontone sfiduciata dal sindaco del PD dall'assessore del PD dal presidente del consiglio del PD da tutte persone diciamo nostre nostre quindi tutta questa vicenda giustamente chi è che ha raccolto le macerie di tutto ciò e tra questi mi ci inserisco anch'io abbiamo sentito il bisogno di coinvolgere la commissione di garanzia e a tutt'oggi devo dire ancora oggi non solo non ci hanno mai risposto ma addirittura il nostro caso che trattasi di una maggioranza che governa una città è stato messo in coda e hanno preso il caso veliterno di Velletri e l'hanno piazzata al primo posto come fosse una priorità nazionale questa è già una grande grossa anomalia che non dovrebbe succedere perché parliamo di due consiglieri che bene o male stavano là e hanno sempre dichiarato almeno per quello che mi mi compete per quello che io ho potuto accertare che sono stati e si dichiarano forse ancora o del partito democratico nonostante tutti gli avvenimenti che poi si sono succeduti quindi da questo io dico c'è sicuramente qualcuno che al di là della commissione di garanzia va a come dire a dare delle priorità quindi la commissione di garanzia non è sovrana nella decisione nella scelta delle questioni da portare avanti e questo è un problema e poi più avanti ritroveremo ritroveremo proprio la vicenda specifica Bagaglini c'è una perché poi ci stanno coinvolgendo gli ascoltatori che attraverso il sito ci sono tutta Italia dice è grottesca suscita molta ilarità il fatto che uno venga giudicato per aver saltato per non aver partecipato ad essere l'unità però Bagaglini giustamente con una faconda documentazione davanti agli occhi ci sta per dire che sono tante le accuse che mi muovono sì diciamo che il tentato processo al collega da Dei era solo l'antipasto diciamo che i signori faccio un breve inciso in tutti i partiti politici i partiti politici sono fatti di uomini quindi possono essere uomini per bene e non uomini per bene quindi ciò vuol dire che insomma questi sono problemi che potremmo incontrare in qualsiasi tipo di partito quindi mi riaggancio al dopo processo dove viene messo in moto tutto un documento di sospensione dal gruppo consigliare con delle motivazioni che noi ci lasciano basiti perché abbiamo richiesto un consiglio comunale straordinario insieme ai consiglieri di opposizione e ovviamente non dicono di cosa si sta parlando riguardo al multipiano noi non eravamo contrari alla formazione del multipiano eravamo favorevoli aspetti in un tempo ci mancherebbe introdusiamo questa parola nuova un'inserzione nuova nella discussione che cos'è il multipiano un parcheggio multipiano destinato al parcheggio di auto ovviamente nel centro della città questo prevedeva un'opera anche costosa consistente 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 in una realizzazione che poi dasse respiro alla città sia sul piano del traffico sia sul piano urbanistico e invece noi ci troviamo con l'elevazione sul piano di campagna di due piani quindi edificazione sul piano di campagna quindi a questo punto noi su questo aspetto abbiamo avuto dei problemi abbiamo evidenziato le nostre perplessità e abbiamo chiesto un maggiore approfondimento in quale ogni giorno che facevamo la riunione in segreteria ci portavano un disegnino a fronte di questo noi a questo punto abbiamo deciso di approfondire la tematica in consiglio comunale li abbiamo costretti a venire a parlare in consiglio comunale ad esporre i fatti tant'è vero che poi alla fine punti piano non si è realizzato quindi ritornando al discone delle accuse ci sono una serie di accuse che vengono elencate e ci sospendono dal gruppo il 13 ottobre scusa un attimo alla regia ma si sente bene Paglini? va bene? se può spostare no lo deve allontanare addirittura ecco così forse proviamo giusto? meglio così? molto meglio ci sospendono dal gruppo il 13 ottobre noi veniamo a conoscenza che c'erano le convocazioni dei gruppi e ancora non ne avevamo conoscenza ci informano della nostra della nostra sospensione un mese dopo un mese dopo prendiamo atto del documento dopo che il capogruppo del partito democratico se ne fa onore di leggerlo in consiglio comunale quindi ovviamente con una nostra reazione di difesa piuttosto forte piuttosto forte e notiamo che tra i firmatari e quindi qui ci sono tutti i firmatari tranne un collega consigliere spicca in noi in modo particolare la firma del sindaco Fausto Servadio allora quello che noi ci siamo detti a prescindere dai problemi che comunque ci possono essere come in tutte siamo uomini insomma ma il sindaco che è la figura rappresentante di un'istituzione che è il garante di una maggioranza è uno dei firmatari di questo documento avrebbe dovuto dire signori miei questi sono consiglieri il partito è là vedetevela risolvete il problema perché io sono il capo di un'amministrazione come lui è sempre affermato qui invece si prende la responsabilità di chiedere la nostra sospensione in questo caso era solo la sospensione dal gruppo poi diciamo si è concretizzata l'uscita dal partito con altri documenti poi del partito poi del commissione della commissione provinciale del segretario provinciale Leodori eccetera 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 dato giudizio le chiedo scusa Pagatini nessun esponente partitico fuori da Velletri si spende per voi? sì 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 come no c'è il ma questo avverrà poi successivamente adesso pure saltando un po' la cronologia dei tempi quando andiamo a finire in commissione provinciale che stanno rispondendo a tutto si spende per noi l'onorevole deputato regionale Claudio Mancini e l'onorevole deputato nazionale Antonio Ruggia fammi fare un aspetti aspetti mi faccia fare un saluto a Tonino con grandissimo affetto Andrea Pina grande un saluto adesso sono arrivati quelli puri Lindy Casti Gigli Bianchi penso a Tonino Ruggia quando era sindaco di Ciampino un comune che gestiva miliardi all'epoca eravamo al vecchio Conio e andava in giro con una vecchia regata e la mattina andava ad insegnare all'istituto tecnico a gente come Ruggia questi cialtroni da adesso non devono insegnare nulla per mettere scusate la parentesi un saluto veramente affettuoso a Tonino prego scusi no stavo appunto parlando dell'intervento degli onorevoli che si spendono per noi fanno una serie di dichiarazioni che peraltro non riportate nella loro interezza nel verbale di commissione qualcuno si chiedeva ma lei come fa a saperlo è perché gli stessi gli stessi partecipanti alle riunioni quindi sia l'onorevole Ruggia che Mancini smentiscono ciò che scrive la commissione quindi però è un limite mio per l'amor del cielo non conosco il peso specifico di Mancini quello di Ruggia possiamo stimarlo ed è importante soprattutto nel Lazio è una serie a parte al quale voglio veramente bene persona molto per bene molto seria e quindi ha un peso specifico che sembrerebbe però essere stato disatteso dalla commissione stessa sì sono disattesi perché il filone purtroppo non ci dobbiamo nascondere trondito insomma voglio dire esistono nei partiti le linee di pensiero se vogliamo dargli una connotazione più chiara le correnti diciamo di partito il filone che legava le lettri commissione provinciale e deputati rappresentanti in commissione regionale nel parlamentino regionale sono tutti legati dallo stesso filone Luca Masi Leotori che mi associo ai complimenti per l'elezione congratulazioni anche i complimenti e congratulazioni per l'elezione del consiglio regionale è stato il più votato e i referenti regionali che allora erano il deputato a Storri che ora è diventato senatore se non erro quindi seguo poco il PD ho lanciato la provocazione di candidarmi alle primarie ovviamente era una votata la mia come che la linea la linea il filone diciamo di comando era tutta della stessa della stessa componente del partito non per ultimo il presidente della commissione della commissione provinciale signor Maccaroni e ovviamente avranno riscontrato tutti tutti probabilmente lo stesso pensiero e hanno sottovalutato sottovalutato e comunque non preso in considerazione quelle che erano le dichiarazioni degli onorevoli che sono Mancini e Rugghi allora ci fermiamo un attimo abbiamo ancora un'ora dopo la pausa e ritorno sull'ultima ora un governo politico e non tecnico che dura almeno tre anni e questa è la posizione di Silvio Berlusconi per risolvere la complessa situazione politica dopo le elezioni del 24 25 febbraio scorso una fonte ai massimi livelli del popolo e la libertà molto vicina al cavaliere spiega il piano della principale forza di centrodestra nessun rapporto con il movimento 5 stelle Beppe Grillo è totalmente inaffidabile ed è impensabile fare un esecutivo con lui confida la fonte il problema è che Pierluigi Bersani si è attestato su questa posizione ma dicono dalle parti di Palazzo Grazioli non tutti nel PD la pensano come il segretario quindi per il momento Berlusconi resta in attesa che naufraghi il tentativo di dialogo con il movimento 5 stelle sicuro che prima o poi il partito democratico busserà alla porta del PDL secondo il cavaliere è chiaro che il premier non potrà essere lo stesso Bersani primo perché non ha vinto le elezioni e secondo perché ha escluso all'indomani del voto la grande coalizione servirà una personalità di spicco di area democratica ma non il segretario ipotesi in campo udite lo dico agli amici del partito democratico Berlusconi questo è un genio Massimo D'Alema o Enrico Letta quindi interlocutori sicuramente più sensibili a questo tipo di proposta ma qualora il PD non volesse spendersi in prima persona la carta giocabile sarebbe quella di Corrado Passera ministro del governo Monti che non ha seguito il prof della Bocconi nel naufragio elettorale ma Berlusconi non vuole un altro governo tecnico bensì un esecutivo politico con dentro ministri dei due principali partiti e altrettanto legittima la domanda il Quirinale rientra ovviamente nella partita e in questo schema il prossimo capo dello Stato dovrebbe essere di centrodestra il nome è quello di Gianni Letta moderato e cattolico che può garantire le gerarchie della Chiesa e prendere voti in Parlamento anche dai centristi ovviamente Lega Fratelli Italia e Sella resterebbero fuori dalla maggioranza Berlusconi non ha alcun interesse a diventare un presidente del Senato non gli importa proprio anche se potrebbe in prima persona guidare un di Castero l'obiettivo sarà quello di garantire l'Europa sulle riforme economiche modificare il Porcellum e cambiare la Costituzione per rispondere all'ondata di antipolitica di mezzamento del numero dei parlamentari e fine del bicameralismo perfetto con l'introduzione del Senato delle Regioni in cambio dell'ok all'elezione diretta del Presidente della Repubblica il PDL potrebbe concedere al PD una legge elettorale alla francese ovvero doppio turno con collegi uniluminali se scopro che il monocameralismo qui in una sua visione in una sua presentazione ibrida è un punto del programma 5 Stelle vado a Genova a Sant'Ilari a Beppe gli chiedo almeno un caffè perché insomma questo eh non esiste il plagio in politica però le royalties dovrebbero essere almeno riconosciuti i meriti ci fermiamo qui torniamo dopo la pausa dopo a Genova